Cari amici della Rari, eccoci di nuovo a conoscere un nuovo protagonista, Pietro Figlioli della nostra Rarinante Savona. Buongiorno Pietro. Buongiorno Laura, buongiorno ai tifosi. Allora, Pietro non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo campione e se Garibaldi era l'eroe dei due mondi, lui è il campione dei tre continenti. Perché? Perché lui è nato in Brasile, poi si è trasferito in Australia, ha imparato a giocare in Australia e poi è arrivato in Italia tramite la Spagna, insomma tutto il mondo. Esatto. Come vai? Raccontaci questo percorso. Beh, nato in Brasile da genitori brasiliani che nell'88 decisero di spostarsi in Australia per seguire una vita nuova, di opportunità diverse rispetto a quello che avevano in Brasile, tutto qua. Poi io... In Australia perché la palla nuoto? Perché ho provato un sacco di sport, veramente tanti, perché in Australia c'è la fortuna di poter praticare gli sport a scuola direttamente e c'è molto più cultura sportiva là rispetto a forse all'Europa in generale. E mi sono innamorato della palla nuoto, ero bravino nel nuoto e comunque ho continuato con uno sport vero, sano, di valori veri ecco. Poi alla fine insomma tramite la Spagna, il Barcellona arrivi in Italia. Sì, ho fatto una stagione nel Barcellona nel 2003-04 e poi sono arrivato in Italia che sapevo di avere origini italiane e possibilità di acquisire la cittadinanza italiana. Quindi ti sei innamorato della calottina azzurra e sei direi veramente un campione che pochissimi credo che possono dire di aver vinto quanto te, no? Eh sì, io mi sono innamorato sì della situazione italiana, della possibilità di proseguire con una carriera importante e così sono riuscito a fare. Ecco, ho vinto tanto nella mia carriera, sì lo posso dire, e ho tanta voglia di vincere ancora. Qual è la vittoria che, insomma, ti ricordi di più, a cui sei più affezionato? Eh, allora, devo dire che diventare campione del mondo è bellissimo e diventarlo due volte è ancora più bello. La seconda volta anche da capitana della nazionale, quindi ancora di più un tassello da aggiungere alla felicità. Detto ciò, anche la prima Champions League che ho vinto nel 2007, è stato anche quello lì parecchio bello, anche se ero all'inizio di una conoscenza della palanuoto europea ancora da scoprire, ecco, l'importanza vera della Champions League. Questa tua avventura a Savona? Un altro mondo, eh? Sì, no, è completamente diverso rispetto a quello che ero abituato negli ultimi anni però mi ha fatto rinascere perché innanzitutto mi sono ritrovato mio ex compagno di squadra in panchina da mister che lo stimo veramente tanto, che è una persona vera e obiettiva che secondo me, io mi sono innamorato della palanuoto proprio per questo, perché è uno spot vero per uomini veri, per sportivi veri che hanno voglia e bisogno di soffrire per ottenere qualcosa e mi sono trovato in una situazione dove ho un ruolo molto importante nella squadra sia da giocatore ma anche da uno che può passare della mia esperienza e la mia conoscenza ad altri. Ti piace, insomma, insegnare ai giovani? Sì, mi piace, non lo faccio, penso, in modo eccessivo perché ognuno deve trovare la propria strada e quindi posso dare dei consigli, però sono consigli basati sulle mie esperienze, la mia vita e la mia persona, quindi... Tu vedi un tuo futuro come allenatore? Io vedo il mio futuro come la prossima partita è sabato E poi ne parliamo Poi vediamo, perché io ancora ho voglia di vincere, ho voglia di fare Le tue passioni, insomma, piatto preferito, libro preferito, film preferito? Il piatto preferito è quello che trovo davanti No, sono un gran mangione, devo dirlo Mi piace mangiare, infatti molto spesso scelgo le mete in base a cosa si mangia E per me è importantissimo E passioni, diciamo, quelli più... che seguo di più, magari d'estate è la pesca in apnea Ah! Mi piace parecchio... Sempre acqua, comunque Sì, sempre acqua, comunque Mi piace parecchio quando ho la possibilità, vado Ripeto, più d'estate, perché l'inverno sono molto impegnato con la palanuoto E poi sei impegnato anche con la famiglia Esatto, esatto Una compagna Una compagna Che è una grande tifosa tua Esatto, esatto Che vediamo sugli spazi La Lucrezia che la salutiamo Ecco E anche... Sì, abbiamo un bimbo piccolo di dieci mesi Ho altri due figli con una mia precedente relazione Quindi sono parecchio impegnato da papà Che papà sei? Io? Sì Io sono un papà Ehm... Domanda difficile Eh... perché comunque dialogo molto, penso molto comunque con i miei figli Però pretendo anche una disciplina e rispetto da loro Perché sono stato cresciuto così E... penso che ci sia una delle girarchie anche nella famiglia Da rispettare perché comunque nel mondo ci sono E chi non li segue quello perde la strada alla fine La famiglia poi dà anche la strada per lo sport, no? Certo, assolutamente E comunque è il dovere dei genitori comunque educare e disciplinare i figli Che riescono a trovare il loro posto al mondo Diciamo... e riuscire a vivere in una società Rispettando tutti con determinati valori E direi che questo è un insegnamento anche per i nostri giovani pallanuotisti Assolutamente Torniamo nell'acqua che ti piace di più Parliamo della partita col Palermo Una grande vittoria, una vittoria sofferta Però si sapeva insomma Il Palermo è sempre una squadra ostica Sì, rispetto all'andata è stata decisamente più semplice per noi Infatti il risultato si è visto E... sappiamo benissimo che tipo di gioco fanno loro A volte non piacevolissimo Non di... diciamo... molto corretto Ripeto, con tutto il rispetto è una scelta loro Il loro metodo di giocare E va affrontato in un certo modo Per noi è stato un altro tassello Nel nostro viaggio Di una stagione Con degli obiettivi ben precisi Un viaggio che adesso prosegue Certo, esatto Che venerdì siamo in partenza Per il ritorno delle ottave di finale Con lo Yadran Che è molto molto importante appunto Per confermare un posto nei quarti di finale Ecco, tu dall'alto della tua esperienza Palla nuotistica Questa partita, come la vedi? Questa partita di ritorno? Perché abbiamo vinto con sei gol di scarto Ma non è che andiamo a giocare con una squadrettina? Esatto, esatto Guarda, la partita non sarà per niente facile Perché loro giocheranno in casa loro Noi faremo il viaggio giorno prima Va bene Però ancora prima Loro arriveranno con i coltelli fra i denti E noi dovremmo essere pronti a soffrire E praticamente giocare contro un avversario Contro i loro tifosi Contro gli arbitri Contro chiunque che troviamo di fronte Quindi è una partita che dipende da noi Totalmente che dipende da noi E va affrontata come? Eh, va affrontata che invece di stare sopra di sei Siamo sotto di sei Ok Come mentalità Perché se arriviamo là con Una convinzione che abbiamo il vantaggio È l'arma più grande Che abbiamo contro noi stessi Ovviamente i tifosi non possono venire a Trebini E in Bosnia Perché insomma non è proprio facilissimo Potrebbero Potrebbero volendosi Però sì Diciamo che non è semplicissimo Diciamo che non è semplicissimo Ma possono seguirvi E voi lo sapete Voi comunque sentite anche a distanza Il calore delle persone Certo Quanto è importante per te il calore dei tifosi? Beh, parecchio Guarda, a me fa moltissimo piacere Io ogni giorno quando arrivo in piscina Che ci sono i ragazzini Mi dicono ciao figlioli Comunque è piacevole ricevere questi riconoscimenti E rispetto dei giovani E di conseguenza anche dei genitori E appunto dei tifosi Che vengono a vedere la loro squadra combattere Per noi è super piacevolissimo Qualche volta capita che siamo in giro Magari uno ci riconosce E ci chiede come state Eh, ho visto questo, questo, quell'altro E comunque è bello sapere che comunque Noi promuoviamo le emozioni Alla fine Che qualcuno prova piacere O magari anche l'ansia Di vedere le partite nostre Bene Allora, su questa emozione Che ci regala Pietro Figlioli Sempre, ogni volta che scende in vasca E mi raccomando Non ricordatevi Non dimenticatevi di Tifare per i ragazzi Anche guardando la partita Sul sito della LEN Perché sarà trasmessa Sul sito della LEN Al link che potrete trovare Sul nostro sito Della Rarinante Savona Sempre Forza Rari Forza Pietro Grazie per essere stato con noi Grazie Grazie a voi per averci seguito Alla prossima Grazie a voi